E' tutto su un funk inzotto! 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 Ok, l'importante cosa è che parliamo un po' di cosa facciamo questa sera. Certo, che è un pezzo con i bassi quattro... Ma c'è un bravo idea! E credo che perché stiamo ascoltando... E stiamo a dire... Se non possiamo mantenere il tempo... Ravendo un magello qua...